Cari amiche e cari amici, questa notizia è tratta da Agi, Agenzia Italia, titolo Il Papa in Iraq e il rinnovo dell'intesa con Israele, sottotitolo Il viaggio del Pontefici e i possibili risvolti sul negoziato con la Santa Sede Il tutto alla luce del cambio d'inquilino della Casa Bianca Papa Francesco visiterà l'Iraq dal 5 all'8 marzo e a suo tempo sarà pubblicato il programma del viaggio che terrà conto dell'evoluzione e dell'emergenza sanitaria mondiale L'Iraq rappresenta in questo momento il cuore di tutti i problemi di una regione molto problematica come il Medio Oriente e pare che qualcuno abbia sollecitato o bergoglio la chiusura dei negoziati tra Santa Sede e Israele Pier Battista Pizzaballa, dell'Ordine dei Frati Minori è il patriarca latino di Gerusalemme tra i due c'è grande assonanza La questione è importantissima anche se pochi se ne sono accorti L'idea che se ne ricava è che la decisione del viaggio sia stata presa in condizioni, se non eccezionali, di rado ricorrenti Non si ha l'impressione di un pieno ritorno alla normalità quanto piuttosto di una leggera forzatura dei tempi e dei modi segno che si vogliono stringere le viti, far ripartire la macchina magari per cogliere l'attimo in cui sono allentate le maglie della politica mediorientale dopo il cambio di inquilino della Casa Bianca Un cambiamento di scenario che segue e forse consegue il raggiungimento di una serie di accordi tra Israele e alcuni paesi arabi ultimo dei quali il Marocco Una eredità anche dell'era Trump sicuramente una base su cui partire per il lavoro dei prossimi anni Non a caso il custode ha ricordato un particolare interessante È buona la conclusione di tutte queste intese ma resta pur sempre da rinnovare quella che Israele ha firmato nel 93 con la Santa Sede È necessario chiudere come Chiesa viviamo in una sorta di limbo un limbo giuridico che va risolto Anche aprire un conto bancario oggi è una via crucis questo perché non abbiamo un'identità giuridica chiara e sono cose che devono essere risolte L'impasse nasce da ostacoli di carattere fiscale ma riguarda anche l'amministrazione dei beni della Chiesa a Gerusalemme e dintorne Sembrano ritocchi ma quella santa è terra dove l'immobiliare conta e conta molto ai fini della stessa sopravvivenza Nel corso dell'ultimo anno poi le cronache hanno dovuto registrare casi di occupazione da parte dei coloni israeliani di lotti in Cisgiordania di proprietà della Chiesa con conseguenze riacutizzarsi delle diffidenze reciproche Su questa pesa anche il precedente risalente alla tarda primavera della sentenza con cui la corte distrettuale di Gerusalemme ha respinto in maniera definitiva l'istanza presentata dal patriarcato greco ortodosso che chiedeva di annullare la vendita di tre proprietà immobiliari patriarcali all'organizzazione dei coloni ebrei Ateret Kohanim La partita, se possibile, è ancora più grande Se il cardinal Pietro Parolin ancora nel 2019 si rivolgeva all'ambasciatore israeliano Oren David rimarcando la bontà di quelle intese, manca altre due cose La prima, quanto sia necessario venire a un accordo sulle questioni finanziare La seconda, una rinnovata e proficua collaborazione con la Chiesa Cattolica in Israele affinché il Paese possa dimostrare la validità della sua democrazia garantendo a tutti uguali diritti e pari opportunità Passaggio quest'ultimo, che venne tradotto come un esplicito riferimento legge sullo stato della nazione ebraica madre di quasi tutti i timori delle minoranze non ebraiche del Paese Medio Orientale Inoltre, appena pochi mesi fa la possibilità che Israele annettesse una serie di insediamenti ebraici in Cisorgiania aveva spinto sempre Parolin a una chiara presa di posizione Rivolgendosi all'ambasciatore israeliano, come quello degli Stati Uniti il porporato aveva manifestato la preoccupazione della Santa Sede circa possibili azioni unilaterali che potrebbero mettere ulteriormente a rischio la ricerca della pace tra israeliani e palestinesi e la delicata situazione in Medio Oriente Di seguito era stata ribadita la linea che da sempre è quella di oltretevere Israele e Palestina hanno il diritto di esistere e vivere in pace e sicurezza dentro i confini riconosciuti internazionalmente In una parola, il quadro era confuso quanto basta a bloccare i lavori della commissione bilaterale che dovrebbe portare a compimento gli accordi tra Santa Sede e Israele Oggi il patriarca Pizzaballa ricorda che si vive in un incubo e che lui sono 25 anni che sente dire che si è a un passo dalla conclusione ma la conclusione non arriva mai dal momento che il suo intervento la situazione politica israeliana si è ancora più ingarbugliata si andrà per la quarta volta in due anni ad elezioni anticipate non si sa se lo stallo che ne è all'origine e che ora probabilmente durerà fino almeno alla fine della primavera spingerà a cercare di chiudere almeno questo capitolo ma la Chiesa sa aspettare magari non altri 27 anni Caro patriarca Pizzaballa mi sa che qua dovrai aspettare molto e molto ancora un caro abbraccio a tutti Marco Cosmo